L'anno scorso l'anno scorso è stato il migliore per la nostra squadra perché siamo arrivati prima e seconda ma ora la situazione è diversa Penso che Ducati e Honda sono più forti sono in modo migliore compared con l'anno scorso quindi penso che sarà più difficile ma l'importanza è come funziona la moto a lavorare sulle tire e su questo asfalto e speriamo di essere competitivi